Allora, qui Firenze è una città che tra l'altro ti ama molto. Noi ricordavamo prima... Sì, ricordavamo proprio... Allora sono reciproca la cosa. Ah, vedi, questo ci fa piacere. Non sono l'unico che lo dico, penso. Eh, lo so, però ci fa sempre piacere sentirlo dito. È una delle città migliori del mondo. Cioè, sicuramente, esteticamente, forse è la prima, la più bella con Venezia. Poi io sono un fan di tutte le città italiane, perché a loro modo hanno una particolarità talmente specifica che le rende così uniche e irripetibili. E Firenze lo è maggiormente. È la storia, è la storia. È la storia. La storia è qualcosa che adesso, come adesso, gode di pessima, secondo me è un momento dove la storia in generale, non solo quella delle città, ma anche quella della musica, non gode di ottima reputazione, perché sono tutti a favore di un svuotamento assoluto che è una sciocchezza, perché non porterà a nulla. Ma a che punto è quindi la storia della musica italiana, se si può dire? La musica italiana regredisce molto rapidamente. La musica italiana non produce niente di valido da tanti anni, da un punto di vista di invenzione, che stia nel dibattito internazionale, non ti dico che cose inascoltabili. Ci sono cose ascoltabili, ma che non hanno peso, se pensi paragonate a quello che c'è all'estero. Invece questo, per esempio negli anni Sessanta... Era all'inverso. No, più che all'inverso eravamo, diciamo, competitivi. Le canzoni, effettivamente, di Modugno, o di Tenko, o di Gino Paoli, venivano anche cantate dagli artisti americani. Elvis voleva fare pezzi di Modugno, ha chiesto a Modugno se gli scriveva delle cose, per esempio. Cosa che non capita oggi, non mi sembra. Ma in che rapporto stai con Elvis, che ce l'hai qui sull'Oculele? Soltanto un grande scrittore può far vivere insieme i vivi ai morti. Questo lo dicevano fossati in una canzone bella. Soltanto un grande scrittore può... No, perché effettivamente ai morti a chi interessano, se non ai parenti. No, vabbè, c'è chi lascia una fama a chiunque. A Pino Daniele, per esempio, perché non se ne parla più di Pino Daniele? Spero che Napoli andrà avanti a coltivare un po' il mito di Pino Daniele, perché si è spento Pino Daniele, ma si è anche spento un po' il parlare di Pino Daniele. Io non lo sento molto citato, non lo vedo messo in radio. Invece Pino Daniele è importante ed è morto l'anno scorso, forse. Sì, sì, tra l'altro... Sì, in Toscana è stato anche seguito perché è successo qui. Quindi era grosseto quella notte, insomma. Infatti, però, penso che sia una delle mancanze, anche Lucio Dalla, una delle mancanze gravi nella musica italiana, perché erano artisti che comunque lavoravano anche negli ultimi periodi, non erano spenti artisticamente. Mentre altri, e non faccio i nomi, sono un po' spenti. Come quando Carmelo Bene disse quando è morto Gasman, perché Gasman morì prima di Carmelo Bene. Allora, Carmelo Bene ha fatto in tempo a scrivere delle cose. Mi ricordo, sul Corriere della Sera, diceva, ma perché vi stupite? Era morto da 40 anni. Scriveva Carmelo Bene. Ha scritto questo. Lui intendeva artisticamente. Vabbè, certo, certo. Senti, ma tu oggi sei ospite del Campus, che è questa esperienza, insomma, veramente bella. Ma è questo che stiamo facendo il Campus? Sì, è questo, è questo. Questa è l'antipasto. Noi siamo Campus Web TV. E gli diamo impasto. Diciamo una tassa che va pagata all'ingresso. Questo livello va bene. Sono accompagnato con Charlie Sengio, sono pure le copertine di Playboy. Va bene, va bene, va bene. Finché siamo una tassa piacevole, ci va anche bene. Non lo mi allargo. Senti, ma qui praticamente si costruiscono un po' i giovani, si portano avanti i talenti, gli si danno dei consigli, si fanno crescere in qualche modo. E tu, insomma, con l'esperienza e il rapporto anche con i giovani ne hai di diverso, no? Perché sei stato vicino anche di diverso tipo, sei stato vicino e poi sei stato anche lontano dai talent. Lontano, lontano. E come funziona portare avanti questi giovani? Chi? Pantalone di chi? Di la bimbo. Ah, tra l'altro è una nostra amica. amica, vieni qui, vieni qui. Voleva, no, voleva il microfono, non gliel'hanno dato e quindi... Si è allontanata. Raccontaci un po' di come approcci i giovani, cioè cosa gli consigli, cosa gli racconti stasera. E' strano questo, perché io sono, diciamo, i primi anni in cui mi trovo quarantenne, perché prima di aver compiuto i quarantenne non mi sono trovato mai quarantenne. Guardavo quarantenne con un po' di credenza. Perché mi sembrava che fosse la soglia che fa invecchiare le persone. In fondo la vita dura più o meno 80, 90, quando dura bene, insomma, tanto. Sì. E' quaranta, siamo lì, spartiacco, no? Nel mezzo del cammino della tua vita ti sei trovata al campus. Allora, c'è dritta via, smarrita, hai quanto dire qual'era e cosa dura questa selva selvaggia. Ah, vabbè, allora. Questa selva selvaggia è aspre e forte che nel pensiero rinnova la paura. Anche amara che poco è più morte. Io non so... Omaggio a Firenze, eh. ...entrai tanto, sono a quel punto che la vorace di abbandonare, ma poi che puoi al piede un colle giunto, là dove terminava la valle che mi aveva di paura e il corco. Un punto guardai in alto, vedi le sue spalle vestiti già dei raggi del pianeta. Allora fu la paura, un po' coqueta, nel lago del Corme era durata, la notte che io passai con tanta pietà. Oh, grazie, grazie. Bene, bene. Un colleno affannato, è uscito fuori di te la guanarina. No, vabbè, ma tutto sono tanti, eh. Parte del primo e tutto il quinto. Eh, Paolo e Francesca. Amor che ha un cuore gentile a tozze a prendere. Non ci fidiamo, ci fidiamo. Ora che non l'ho amata, ma perdone, c'è un cuore di amore. Amor conduce ad una morte. Soprattutto che consigli darai a questi ragazzi? Posso dare consigli? La mia vita è completamente... S, c'è la S davanti. E quindi ha la S privativa la mia vita. Ho anche l'alfa privativo. Per esempio, amici vuol dire una persona che non ha gatti, no? Ha amici, no? Per esempio. Quindi la mia vita ha una alfa privativa davanti. E questa è una battuta casuale, penso. No, è una battuta formidabile. Però non bisogna ridere alle belle battute. Al limite prima di farla puoi ridere. Come? Prima è troppo difficile. Sì, perché tu sai che farà ridere. Quindi ridi prima, poi la racconti e poi non si ride. Nessuno però deve ridere, mi raccomando. È un gioco, non ridiamo. Ci sforzeremo, faremo del nostro meglio. Anche se dico che canterò con Berlusconi una canzone di Tony Rennis. No, qui si ride per forza. Guai a chi ride. Soprattutto quando avviene, guai a chi ride. Torniamo a tema. Stavi dicendo che i giovani, io non credo di avere dei consigli da dare. Perché abbiamo fatto anche però un panorama abbastanza, un po' negativo. Detesto i consigli, detesto quelli che danno i consigli. E perché uno dovrebbe... Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio. E quindi perché? Poi tra l'altro qua fuori c'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva, no è vero che c'era un cartello giallo. Guarda c'è un cartello giallo. E comunque io consigli non ne do perché io non do consigli. Io do delle certezze, non dei consigli. Allora se tu vuoi... Molto più interessante. Perché in realtà i consigli sono proprio un pur parler. Sono anche una cosa per chi si sente sto cazzo. Invece io devo dire, se mi vuoi parlare di musica, su quello che conosco ti posso dire quello che so. Ma sono certezze, non sono consigli. Io non ti consiglio di fare correttamente un accordo. Cioè te lo impongo più che consigliartelo. Ti spiego perché quello è corretto e l'altro modo è sbagliato. Ma è un fatto tecnico. Sull'etica del buon comportamento è lì. Ognuno ha le sue visioni. Io posso essere veramente un ottimo esempio. Perché in fondo sono una persona... Ma non do consigli. Posso prendere come esempio la mia esistenza. Però è molto doloroso. Mettetevi nei miei panni. Insomma è un casino. Io non credo che... Beh perché forse non lo puoi sapere. Meglio che tu non lo sappia. Ma mi sono capitate veramente delle cose strane e anche poco piacevoli. Che non dipendono da me. Ma del resto noi pensiamo... Gesù Cristo quante gliene sono capitate. È tanto. È l'ultima poi è stata un po' grossa diciamo. Quindi no per dire... Cioè se c'è uno che andava preso come modello era lui, non io. Non io. E guarda che fine ha fatto. Per cui attenzione a essere troppo buoni. È un disastro. È un disastro. Credo che alla fine bisogna mettersi in conto di subire delle grandi angherie da parte dei cattivoni. Ma chi sono questi cattivoni? Sono quelli che pensano solo ai soldi. È facile distinguere i cattivi dai bani. I cattivi hanno in mente i soldi. I buoni hanno in mente altre cose. Hanno in mente le idee. Hanno in mente... Di divertirsi. O hanno in mente di aiutare gli altri. O hanno in mente di... Di suonare. Di fare qualcosa. Anche di... Insomma. Non i soldi. Perché i soldi non sono un fine ma un mezzo. E invece ormai le persone la prendono come un fine. Cioè nel senso che vengono a fare una cosa solo se ci sono i soldi. Questo vuol dire che allora è il fine. Che invece no. Cioè se tu devi suonare solo se ci sono i soldi. Vuol dire che tu... Usi il suonare come mezzo per avere i soldi. E invece è il contrario. Tu devi avere i soldi per prendere il pullman. Per poter andare nel luogo dove suoni. Cioè oppure per avere un mezzo che ti trasporti. O per avere dei vestiti da mettere. Cioè i soldi sono uno strumento che servono per... Quindi se noi invertiamo lo schema. Magari qualche giovane si risveglia. Perché se stanno ad ascoltare la radio che c'è oggi. A vedere la tv che c'è oggi. A leggere i giornali che ci sono oggi. Secondo me imparano soltanto il dio denaro. È vero, è vero. È quello il problema. Il denaro ci deve essere. Perché ovviamente bisogna coprirsi. Bisogna mangiare. Bisogna avere un tetto. Ma nel momento in cui ha queste tre cose. Tutto quello che ha in più è una sconfitta. È una protesi. Beh questa è sicuramente una cosa su cui riflettere. Però vogliamo allora noi chiudere la nostra intervista con un approccio costruttivo creativo. Ma io chi sono per dire questa cosa? Poi darà l'altro. Ma chiunque può dire questa cosa? Uno che non ha un quattrino. Ma non mi interessano. Non mi interessano. Cioè è per questo che sono inculabile. Però dico sempre ai miei manager. Ma perché non mi inculi per 15 milioni anziché per 1500 euro? Così vuol dire che se tu mi stai fottendo 15 milioni di euro. Vuol dire che ne abbiamo fatti 30. Cioè fottimene di più. Quindi stiamo ritrattando tutto. Senti invece io ti volevo lasciare con un progetto. Perché noi abbiamo detto che le persone vuole sono quelle che creano. Allora qui abbiamo... Creare può voler dire anche andare fuori una sera con un amico. Cioè non è che per forza bisogna fare un'opera d'arte. Essere creativi significa trovare il modo di uscire da una situazione stagnante. La creatività è quello che risolve i problemi alle persone di solitudine, dipendenze varie, come dire, bruttura interiore. Creare significa prendere in mano il telefono. Oggi prendere la cornetta non si può dire però. Fare il numero. Il cellulare. No, così fai il numero con quello che gira. Sì, non c'è più quello. 7, 0, 3, 9. Fai il numero. Però chiamare una persona che ti aiuta anche a uscire da un impasse. Poi invece tutti dicono sociale, 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 ma sono da soli a fare il sociale. Che sociale è se sei da solo in camera tua? Non è sociale. Sociale vuol dire questo. Stare un po' in compagnia. Insieme, in compagnia. Allora parlavamo prima di un bel evento che ti aveva visto coinvolto, giusto? Giusto. Tu vedi che annuisce? Chi annuisce? Lui, lui, lui. Il capo progetto. Il capo progetto. Il capo progetto. Il capo progetto è dedicato a De Andrè. Vogliamo pensare a una cosa bella da fare per Firenze, magari per la musica italiana? Sì, per esempio, allora ditemi il nome di un cantautore di Firenze. Conosco Piero Pelù, per esempio, un altro cantautore di Firenze. Vabbè, mi viene a mente. Campus della musica ce ne sono tantissimi. Dico uno storico. Sicuramente io però non li conosco gli emergenti. Poi me li dovete far conoscere. I storici cantautori di Firenze chi sono? Vabbè, uno fra tutti è anche Riccardo Marasco, che era una musica un po' diversa. Però di nicchia. Di nicchia, sì. Ma anche di musica italiana si può fare. Perché adesso non mi viene in mente... Anche di musica italiana. No, ma ti hai detto Firenze. A Firenze. Allora, per Firenze sinceramente a me mi viene in mente Dante, la prima cosa che penso quando penso a Firenze. Che va bene. E mi sembra. Che ho più di un cantautore. Molto più di un cantautore. Però, per esempio, Firenze è limitrofi o vi odiate come ai tempi del Medioevo? Che c'erano le faide. No, perché qui mi sa che è rimasto un po' questo atteggiamento di Pisani contro... Firenze contro chi è? Prato. No, il campanilismo è anche tra quartieri. E' attenzione. Appunto. No, vabbè. Per non arrivare poi nella palazzina dove c'è... Ma io parlo proprio di corporazioni tipo proprio, non so, Massa contro Carrara. Prato. Dai. Che poi vince Firenze di default. Perché no. Che poi vince Firenze di default. Mi dite voi un cantautore di Firenze? A me mi è venuto in mente Piero Pelù, in quanto membro dell'ISFIVA e cantautore. Ditemene un altro. Irene Grandi, vabbè, è un interprete. È un interprete. Scusa, i... Scusa, ma Dolce Rera che è qui sono ormai a... Sono di Arezzo. Ragazzi, di Rotta Sucuba però stiamo andando a raschiare il fondo del barile, cazzo. Un cantautore, cioè... Di Rotta Sucuba va bene, però anche loro interpreti... Firenze mi sa che... Comunque... È dal 400 che non produce qualcosa. No, vabbè, ma ora c'è il campus che metterà una svolta. Meno male che c'è il campus perché usciamo da 600 anni di impasto. E tu mi dici Milano? Io te ne posso dire non so quanti, eppure Milano è sempre mistrattata. C'è la nebbia, fa schifo. Però intanto c'è Gabri, Annacci, c'è Lentano. E tu sei, più ne metta. Capito? Cantautori di Milano, un sacco cantautori. Anni Svampa, diciamo Eugenio Finardi, Roberto Vecchioni. Quanti te ne posso nominare ancora di cantatori di Milano? Firenze. Sono Milano-Milano o Milano-Provincia? Milano-Milano. Milano dentro la cerchia dei navigli. E poi mi ci metto pure io. Va bene, va bene. Eppure Emanuele Agnelli, purtroppo. Però anche Fedez è un cantautore milanese, a suo modo. Cioè a suo modo milanese o a suo modo cantautore? A suo modo Fedez. E poi, non lo so cosa possiamo fare, il campus. Il campus. Il campus, è l'unica chance. Ragazzi, il campus è l'unica via. Mi sono accorto che il campus è la sola via che abbiamo oggi giorno per poter creare qualcosa. E adesso vediamo cosa stiamo per creare. Perché io devo andare a creare. Eh sì, infatti mi sa che ci sono ragazzi che ti aspettano tutti. Ti lasciamo, la tasse è finita. Va bene, ciao. Grazie, grazie Morgan, grazie. Ma non ti parlavamo? Noi parlavamo con tutti quelli che ci seguono sul web streaming, ma soprattutto con tutti loro. Pensavo che montavate tagliando le parolacce. No, no, non si può. Ormai è andata, vabbè. Che mondo di merda. Non ci hanno oscurato, però. Va bene, grazie. Grazie allora, ciao. Grazie.